L'obiettivo ribadito anche da Salerno come da altri movimenti e partiti che si sono presentati alle elezioni è per prima cosa superare lo sbarramento del 3% per riuscire ad entrare in Parlamento. Da questo primo scoglio dipenderà il destino del popolo della famiglia fondato da un paio d'anni da Mario Adinolfi tra i protagonisti del Family Day del 2015 e del 2016. Idee chiare ad iniziare dal reddito di maternità 1000 euro al mese alle donne italiane che vorranno dedicarsi alla famiglia e figli in via esclusiva. Se si cambia pagina davvero le decine di eletti perché col 3% si fanno decine di eletti in Parlamento. Il popolo della famiglia daranno la propria collaborazione solamente a un governo che al primo consiglio dei ministri approvi il decreto legge non il disegno di legge perché la natalità in questo momento è l'emergenza numero uno del paese. Il decreto legge per l'assegnazione di 1000 euro al mese alle mamme che vogliono dedicarsi esclusivamente alla famiglia perché le mamme lavoratrici sono la parte fondamentale del tessuto connettivo lavorativo di questo paese, solo che non viene riconosciuto il loro ruolo lavorativo che è fondamentale. I cattolici hanno solo questa possibilità, votare il popolo della famiglia alle elezioni del 4 marzo, credo che ci sarà una risposta conseguente. Io credo che Enzo De Luca, forse la sua famiglia, debbano entrare in un tempo quaresimale. Forse per Enzo De Luca può essere una riflessione qualche volta, non stare con gli occhi solo curvi a guardare le chiande e i maiali, ma tirare sulle occhi al cielo e qualche volta andare a incrociare qualche fonte di ispirazione che non sia quella solo della materialità e del potere. A guidare il listino alla Camera a Salerno Raffaele Adinolfi con Anna Rita De Fraia e Marco Langellotti. Basilio Di Martino, Raffaele Adinolfi ed Antonio Voria invece nei tre collegi nominali. Al Senato capolista invece Riccardo Cersosimo per l'uninominale, Alfonso Gambardella a Salerno e Riccardo Cersosimo a sud. Abbiamo una precisa direzione di marcia che sono i valori in cui crediamo e che prendono le mosse appunto dalla famiglia per la quale noi disegneremo tutte le iniziative legislative, perché questo dovrebbe fare la politica, dovrebbe pensare al futuro e quindi ai nostri figli. Ed ecco quindi il reddito di maternità, ecco il quotiente fiscale familiare per consentire di tener conto del fatto che se due persone guadagnano la stessa somma non è giusto che paghino le stesse tasse se invece le famiglie sono di diversa numerosità. È chiaro che una persona che ha un figlio non può pagare la stessa somma di chi invece ha 3-4 figli. Noi dobbiamo rimettere in moto l'economia, si rimette in moto l'economia facendo figli. Ovviamente la nostra impronta è una impronta valoriale, molto chiara e molto precisa, quindi noi siamo contrari all'idologia genne nelle scuole e siamo per il primato educativo delle famiglie nella scuola, perché a scuola si deve trasmettere il sapere ma alcuni contenuti educativi e quindi i valori si devono tramandare dai genitori ai figli. Siamo per una posizione ferma rispetto al tema dell'immigrazione perché noi crediamo che l'ospitalità debba esserci soltanto quando è possibile ma non debba essere indiscriminata.